ragazzi sono il piccolo ruby oggi è il 31 noi facciamo paura tutto l'anno abbiamo bisogno di far paura con solo la notte di halloween perché già il livello qui è bassissimo quindi di che cosa stiamo parlando allora come saprete se mi seguite da un po' voi saprete che io quest'anno questo bellissimo anno fatto di disgrazie io immagino il 25 di dicembre un'invasione aliena mai dire mai nella vita comunque per quanto riguarda il punto di vista libresco le uscite di quest'anno sono state molto deludenti per quanto mi riguarda poi se vi sono piaciute tesori io sono contento per voi e sono felice come una pasqua però devo dire che non ho trovato nulla di eccezionale perché nonostante crescen city mi sia piaciuto non l'ho trovato o comunque non lo reputo il libro più bello della mia vita assolutamente no forse forse l'unico degno di nota è il secondo del della jamesin ovvero il portale degli obelischi veramente molto bello per il resto è stata una valle di lacrime ma una valle di schifo perché è veramente delle cose molto allucinanti l'unica che mi manca è il la città di ottone che molti mi hanno detto guarda non ti piacerà ma noi ci sacrifichiamo per la patria e poi il secondo del del di falce quello del dello schusterman poi da grandi linee tutto quello che mi interessava perché non ho le oltre a questo libro dicevo altre due poi tutto quello che avevo da leggere che mi interessava l'ho comprato quello che non mi è aggraduto aggradato vabbè quello che mi ha fatto schifo l'ho venduto e pace amen al signore libro che onestamente io non sapevo se comprarlo io devo dare retta al mio istinto considerando che io ho sette sensi il settimo è nelle orecchie che mi diceva di non comprare questo libro però io so che dovevo farlo per spirito di sacrificio come giovanna d'arco perché mi sento la reincarnazione di giovanna d'arco quindi l'ho comprato con i miei soldini l'ho letto non sono arrivato neanche alla fine perché onestamente non me ne frega niente di come va a finire perché è arrivato a 300 pagine di storie inconcludenti ho detto è inutile che io spenda altro tempo a leggere queste 80 pagine che non mi cambieranno di certo la vita vi ho ancora detto il titolo ovviamente è le 100.000 porte no scusate 10.000 porte di gennaia perché genuari è gennaio lei è femmina e gennaia allora questo libro praticamente parla del nulla del nulla allora se voi leggete il trafiletto dietro dice che inizio 900 una ragazza in cerca della propria identità del proprio posto nel mondo e del mistero nascosto dietro una porta ma dove ma chi ma che cosa ma cosa cioè questo libro deve essere esistenzialista ma non lo è assolutamente il mistero delle porte che è un mistero totalmente ridicolo il suo posto nel mondo ma a tesoro a noi non ce ne frega assolutamente nulla cioè nel senso che queste cose potevano essere in qualche modo inserite nel libro ma nel libro non ci sono è ovvio che l'edizione bellissima vuole far vendere e non è che mi dice non comprate il libro ovviamente il punto è che chi ha scritto questa frase magari si è fatto un po' trasportare dall'onda allora di cosa parla brevemente sto libro allora abbiamo gennaia che praticamente viene un po' sfanculata dal padre che fa l'archeologo e al posto di portarsela dietro la lascia a un caregiver un certo signor non mi ricordo perché tanto quei personaggi sono tutti uguali hanno veramente la caratterizzazione di una sottiletta e quindi uno vale l'altro la lascia da questo qui e lei diciamo che vive in una situazione non particolarmente felice il padre è sempre via questo tizio che un po' la maltratta un po' la ignora e un giorno trova sto libro le diecimila porte inizia a leggere sto libro composto solamente da quattro capitoli quattro o cinque comunque sono pochi e lei praticamente scopre delle cose inerenti al padre e alle sue origini diciamo così scopre tra l'altro un giorno sta porta che dovrebbe condurre in un posto e poi scopriremo non è che scopriremo però diciamo che il fatto che lei veda questa porta abbia un senso benissimo il libro finì cioè è questa la trama bene il punto è che detta così potrebbe anche essere interessante detta così diciamo che non è nulla di originale perché comunque questo libro strizza molto l'occhio a pullman perché qui abbiamo una una ragazzina abbiamo uno pseudo cattivo formato da questa società pseudo perché questo libro non approfondisce assolutamente nulla nulla e una componente magica gli abbiamo la polvere qui abbiamo le porte il punto è che sebbene il libro di pullman a me non mi è piaciuto ma comunque ha senso perché questi tre elementi vengono sviscerati all'interno del romanzo qui è tutto raffazzonato è tutto macchinoso succedono delle cose veramente allucinanti e secondo me la cara come ti chiami tu la cara elix arrow voleva in qualche modo far portare avanti la storia dalla protagonista e dai personaggi il punto è che non c'è riuscita e quindi la trama risulta essere non solo contornata dalle paturni mentali di questa deficiente perché veramente questa è una deficiente ma non succede nulla e quello che succede è praticamente succede un qualcosa che mette in pericola protagonista e arriva il tizio che le salva il culo punto più di quello non c'è i capitoli inerenti a questo libro che sono della noia mortale io il secondo no il terzo capitolo forse l'ho saltato a più e pari perché era veramente allucinante comunque sta di fatto che mandare avanti una trama con i protagonisti tu devi essere anche capace tesoro bello invece tu non sei stata assolutamente capace di fare nulla tant'è che io ho la netta sensazione che il libro lei l'ha scritto man mano cioè lei non aveva un'idea di come poter svolgere la storia allora è andata a tentativi no ma ha detto sì dai inseriamo questa cosa che perché fa figo quindi una trama inesistente era affazzonata una trama che si concentra su una protagonista che io avrei voluto diciamo scioglierla nella sala moia quella di chi è incastrato roger rabbit perché era veramente farle un favore e insomma questa protagonista gennaia che poi tra l'altro insomma il mistero del nome che poteva essere anche interessante no quando poi scopriamo il perché lei si chiama in questa maniera vi cadono le braccia perché dice ma porca di quella miseria con tanti nomi belli che ci sono la vai a chiamare con il nome di un mese ma che non è neanche maschile cioè non è neanche femminile ma è solamente maschile ma chiama l'aprile ma chiama che ne so buonovembra ottobra no la chiama gennaio che tradotto in italiano fosse gennaio ma è gennaia quindi benissimo allora la protagonista praticamente per 200 pagine continua a lagnarsi continua a farsi domande sull'esistenzialismo perché questo romanzo è impegnato sull'esistenzialismo ma più che altro è sulle paturni mentali di questa deficiente che si sente sola abbandonata da tutti e che vorrebbe evadere è una protagonista che anche qui strizza molto l'occhio a i romanzi che sono indirizzati ad una fascia di età scolare quindi di prima elementi prima seconda terza quarta quinta elementare ovvero il giardino segreto il piccolo lord pollian dove praticamente c'è una protagonista dove la vita gli da martellate sul muso dove la sfiga regna sovrana però diciamo che lì ha una morale no perché poi alla fine dice sì vabbè la vita gli da tantissime arance le arance la disgrazia face una spremuta meno male si dà le arance che si dava delle banane quindi a parte gli scherzi qui abbiamo solitamente una un bambino che vive una situazione abbastanza difficile e che comunque insomma grazie alla sua spensieratezza la sua cosa insomma riesce a non dico a risolvere le problematiche perché sono problemi più grandi di lui però riesce in qualche modo a ritrovare quella gioia di vivere ok che la vita magari te dà sul insomma bastonati sul muso il punto è che questo libro che qui dice essere esistenzialista ma lei fondamentalmente prima che trovi questo libro a lei non gliene frega un cazzo di nulla cioè non gliene frega niente di porsi delle domande sulla sua famiglia su sua madre su suo padre e quant'altro quindi il fatto che lei trovi questo libro no è che lei lo legga non cambia assolutamente nulla perché ripeto una cosa che non gli interessava prima non gli interessa neanche dopo cioè l'unica cosa è la scomparsa del padre che è presunto morto ma poi non bisogna anche dire come va a finire perché io l'ho comunque interrotto ma il punto è che lei non gliene frega niente cioè quello che lei vuole non è tanto di insomma che il padre le voglia bene passare del tempo col padre eccetera eccetera no lei vuole solamente uscire da questa situazione che poi voglio dire amore mio non sei lo lovely sarah dove era ricca sfondata dal giorno alla notte e il giorno del suo compleanno si ritrova povera e deve fare la sguattera nella scuola femminile dove si trovava allora lì sì che potevi dire io voglio una porta per evadere dalla realtà ma il punto è che lei fondamentalmente tutto questo esistenzialismo da parte di una bambina è ridicolo perché io voglio dire posso capire che lei era adolescente perché lei comunque parte bambina però secondo me non arriva neanche all'adolescenza da quello che sono riuscita a capire perché poi dopo un povera mente il punto è che lei no vabbè ma io voglio uscire da questa realtà io voglio ma scappare da cosa tesoro cioè tu vieni ignorata dalla qualunque tutti ti ignorano anche anche gli animali ma cosa pretendi cioè ma poi voglio dire questo queste paturnie potevano in qualche modo essere legata alla famiglia al padre no perché mio padre mi ha abbandonata chi è mia madre ma il punto è che lei non gliene frega niente cioè finché lei non trova questo libro che poi lei trova questo libro in maniera veramente idiota ma lasciamo perdere a lei non gliene frega nulla di nulla della sua famiglia non le frega nulla di niente abbiamo 200 scusate 300 pagine dove ci sono le paturnie mentali della protagonista poi vabbè succede un qualcosa però di base abbiamo solamente quello gli altri protagonisti è come se non ci fossero perché abbiamo questa pseudo società cattiva malvagia brutta che fa delle cose assurde eccetera eccetera ma approfondi cosa dobbiamo approfondire nulla perché questo libro è contornato da buchi di trama che sono grandi come il carattere del vesuvio perché cioè io ti do una parvenza di farti capire che comunque magari loro vogliono che ne so manipolarla finché lei apre le porte perché hanno scoperto determinate cose manco il cavolo comunque questa società che in qualche modo doveva essere come il magisterium quindi brutta e cattiva è lì cioè queste persone praticamente si riuniscono fanno baldoria si ubriacano tra l'altro c'è una scena dove lei si ubriaca che è veramente imbarazzante ma lasciamo perdere e basta cioè questo elemento che poteva essere interessante ai fini della trama nel senso che poteva dare un elemento interessante e uscire dalle piotone mentali di questa deficiente no lasciamoli così poi tra l'altro anche lì succedono delle cose assurde il caregiver che tenta di maltrattarla poi la ignora e poi abbiamo i due pinco panco e panco pinco che praticamente sarebbero due protagonisti due personaggi atti a salvare il culo alla protagonista che voglio dire sono praticamente uguali cioè non hanno assolutamente la minima caratterizzazione la minima introspezione cioè loro devono salvare il culo a lei punto non hanno alcun tipo di funzione all'interno di questo romanzo allora la bambinaia che poraccia si deve sorbire ore e ore con questa cara gennaia che veramente ti fa venire il latto alle ginocchia io ho avuto pietà di lei perché a una certa tesoro soffocarti con un guanciale tesoro era farti un favore lui è l'amico all'inizio quasi alla fine ma no no zero comunque sta di fatto che i protagonisti sono tutti messi lì tanto per non vengono assolutamente approfonditi perché non c'è un approfondimento di di nulla e anche il la figura del padre che poi è inerente al libro che lei andrà a leggere onestamente cioè poi questi capitoli qua sono morto la nicola spark dove insomma c'è questa componente amorosa adesso non entro nel merito perché perché no comunque zero cioè anche i personaggi che potevano in qualche modo essere interessanti e avere un minimo di caratterizzazione e portare avanti il tutto assolutamente no 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 zero ma secondo me la cosa più grave è proprio questa componente onirica perché lei inserisce questa componente onirica di ste porte io pensavo no nel momento in cui il padre è scomparso no che lei andava in un mondo per salvare suo padre sostanzialmente magari è così riassunto nelle ultime 80 pagine ma il punto è che non puoi fare questa cosa nelle ultime 80 pagine è una cosa che dovevi fare prima e dare importanza a ste porte dove c'è solamente una porta che si vede e poi buonanotte allora se questo aspetto onirico voi lo togliete dal romanzo il romanzo non è non peggiora e non migliora cioè il romanzo rimane lì punto questo aspetto dove essere approfondito perché se tu mi parli delle 10.000 porte di genuari è che lei che vede questa porta che questa porta potrebbe condurla da qualche parte perché lei si fa le paturnie mentali per 300 pagine di romanzo mi devi dare anche una ha anche un senso a quello che stai dicendo invece no perché queste porte servono alla parte non dico romas però la parte spark di questo libro perché poi insomma sarà più importante nella vita del padre piuttosto che nella vita della figlia che lei ne aveva bisogno poteva aprire questa porta andarsene all'inferno ed eravamo tutti contenti invece no quindi questa parte onirica che potrebbe rappresentare la fuga a tutto quello che volete voi è ridicola è veramente ridicola allora in altri contesti abbiamo che ne so alice che attraversa lo specchio abbiamo bastian che va nella storia infinita abbiamo tantissime cose ma lì ha un senso nel senso che abbiamo un oggetto che ha la funzione di catapultare il protagonista in un'altra dimensione ok vuoi che lui lo voglia vuoi che non lo voglia ok però almeno ha un senso qui non ha un vero e proprio senso anche perché vabbè lei non si fa sbattimenti nel capire determinate cose anche perché poi è il libro che deve spiegarle tutto perché figuriamoci se lei è così intelligente da andare che ne so in libreria a fare delle ricerche ma anche no ma anche no ma cioè vi pare vi pare che sia una cosa che lei possa fare in qualche modo no assolutamente quindi questa parte onirica non è né predominante all'interno del romanzo ma non è neanche fatta bene cioè tanto per intenderci non è come il mare senza stelle della morgenstein dove l'aspetto onirico era molto predominante per tutta la trama ok fatto di simbolismi fatto di cose tutto quello che volete voi no che però comunque il mare senza stelle la strama andava un pochino avanti ecco insomma ci avevamo più rispetto al circo della notte il punto è che qua non c'è nulla di tutto questo cioè questa parte non è né predominante e neanche trattata bene allora che cavolo hai messo a fare in mezzo ste porte ma cosa l'hai messo a fare in mezzo cioè non ha senso che tu metta un aspetto così che magari anche qui puoi strizzare l'occhio a questi romanzi che tra l'altro vengono citati in questo libro a cazzo a sproposito cioè in una maniera totalmente assurda sì citiamo la tana del bianconiglio citiamo che ne so il drago volante ma cose veramente citazioni a caso proprio perché vorrebbe in qualche modo dare un omaggio richiamare ma amore anche no materiale dove poteva giocare talmente tanto poteva veramente sfruttare questa storia delle porte cosa che lei non ha fatto assolutamente allora perché metterla in mezzo facevi solamente una bambina con le paturni mentali sul suo esistenzialismo una bambina e l'esistenzialismo proprio certo perché una bambina non è che pensa a giocare ma si fa delle domande esistenziali dice vabbè è poco credibile però almeno ha senso questa cosa senza inserire questa parte che è inutile cioè assolutamente inutile il romanzo vi può piacere vi siete commossi ho letto di una ragazza che si è commossa ma obiettivamente questo senso delle porte non ha senso che poi magari ha senso nelle ultime 80 pagine ma chi se ne frega c'è anche importante prima non nelle ultime 80 pagine ma cosa mi ammette a fare nelle ultime 80 pagine cioè a me questi questi romanzi veramente che nelle ultime pagine non nei ultimi capitoli nelle ultime pagine si riprendono io veramente non li sopporto perché tu non puoi fare un libro di 800 pagine e le ultime e solo le ultime 200 sono interessanti e prima c'è il nulla cosmico io veramente sono stufo sono veramente stufo di queste cioè di questi libri vuoti ma perché poi alla fine insomma io devo vendere il prossimo libro ora non so se questo è un autoconclusivo o meno non mi interessa quindi voi se un libro nelle ultime pagine si riprende e siete siete contenti di questo benissimo che l'ho salvato in estremis io valuto il libro nella sua totalità e non puoi riprenderti qui nelle ultime 80 pagine perché non ha assolutamente senso altra cosa ultima è inserire l'aspetto della diversità anche qui senza trattarlo nella giusta maniera ora la storia di Jane era anche abbastanza interessante no e poteva anche anche qui essere approfondita no lei dice solamente una frase perché nel contesto storico dove ci troviamo che poi anche qua non è approfondito ma lasciamo perdere c'è ancora una vela di razzismo e quindi se lei si trova in questa situazione potrebbe fare una brutta fine benissimo il punto è che questa frase fine a se stessa e basta perché prima non c'è un precedente cioè quando lei si presenta alla villa e dice io sono la bambinaia che si deve prendere cura di questa deficiente perché mi ha mandato suo padre e si fa anche il segno della croce perché è veramente poraccia non vediamo da parte del caregiver che la tratta male che la disprezza per il colore della sua pelle che poteva essere un elemento interessante e ci faceva in qualche modo capire come la sua difficoltà non è tanto quello di essere una bambinaia ma tanto quella di avere una pelle nera ok allora ci poteva anche stare quello fino ad arrivare poi alla frase che lei dice il punto è che questa frase viene totalmente buttata lì tra l'altro la prima di questa frase succedono delle cose veramente allucinanti ma lasciamo perdere il punto è che questa frase è fine a se stessa cioè lei ha voluto inserire un elemento come quello della diversità o comunque quello del razzismo in una maniera veramente ridicola ma allora io dico ma cosa le metti a fare cosa le inserisci a fare solo perché vuoi fare la differenza ma la differenza la fai se all'interno del romanzo quella argomentazione tu riesci a trattarla e può portare anche dei messaggi ma non perché tu vuoi fare la differenza vabbè io gli faccio dire una frase questa frase ad effetto è buonanotte ma che senso ha ma non ha senso cioè altra cosa che non è solo questo romanzo ma ce ne sono dove c'è inserita questa cosa tanto per senza il minimo senso ma io devo trovare un senso a un libro che un senso non ce l'ha assolutamente no comunque se a voi il libro è piaciuto sono contento per voi assolutamente io ho voluto improntare questa recensione dal punto di vista soggettivo scusate e meno dal punto di vista soggettivo perché soggettivamente ci sono delle problematiche ma sono problematiche mie legate al fatto che io non tallero i libri con delle protagoniste bambine ma quello è un problema mio il punto è che ci sono veramente delle problematiche molto molto evidenti voi avete letto il libro vi è piaciuto non vi è piaciuto fatemi sapere tante cose belle vi mando un grosso bacione noi ci vediamo alla prossima ciao